Il centro di radioterapia di Agropoli è un riferimento importantissimo per un bacino di popolazione che annoverà non soltanto i residenti di decine di comuni dell'area cilentana ma anche pazienti provenienti da tutto il meridione. Da anni infatti il Malzoni Radiosargery Center di Agropoli è ritenuto uno dei primi tre centri di radioterapia in Italia specializzato nel trattamento di tumori al fegato, alla mammella e all'apparato urogenitale, un'eccellenza in piena regola partecipata al 51% dall'ASL che rischia di chiudere i battenti dopo che la regione ha deliberato il blocco di nuove prenotazioni. Nella sostanza ad oggi si lavora solo sulle liste d'attesa esaurite, le quali si rischia di vedere sparire anche l'ultimo presidio sanitario ad Agropoli dopo la chiusura negli anni scorsi dell'ospedale civile. Lo dichiara il presidente della Commissione regionale speciale Aria Interna e consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Michele Camarano. È a rischio il diritto alla salute dei cittadini che vivono in un territorio che già paga il gap di una evidente carenza di servizi essenziali rispetto alle aree urbanizzate. Nei prossimi giorni, conclude Camarano, mi farò promotore di un incontro con i vertici dell'ASL di Salerno e contestualmente interrogerò la regione per capire in che modo e quale iniziativa intende mettere in campo per scongiurare la chiusura di un centro fondamentale per tantissime persone, mettendo a rischio decine di posti di lavoro, di personale specializzato e altamente qualificato.